ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video nelle pagelle di oggi e spero che le abbiate viste tutti nel caso comunque vi lascio il link del video qui sopra nelle schede vi avevo annunciato preannunciato questo video nel quale saremo poi andati a scavare nel dettaglio per parlare di quella che è una presunta lite tra allegri nedved andrea agnelli bonucci c'era un po di tutto dentro oggi non andrò a farvi il resoconto ufficiale di quello che è accaduto perché non ne sono in grado ad oggi vi posso dire che io sono andato un po al terreno e a quanto pare questa cosa sarebbe effettivamente accaduta questa lite ci sarebbe stata non so dirvi di più oggi non ho la ricostruzione affidabile al 100% sto lavorando per portarvi domani un tipo di contenuto diverso nel quale non sarò io ad esprimere delle opinioni ma ci saranno delle notizie vere e proprie confermate degli addetti ai lavori che andranno a spiegarci nel dettaglio tutto quello che è accaduto oggi vi do una breve infarinatura riguarda quello che è la mia posizione su quello che è accaduto su quello che a quanto pare è accaduto l'altra sera a roma cerchiamo di fare anche un passettino in avanti verso i nomi di mercato che stanno circolando nelle ultimissime ore so che qualcuno di solito quando parlo di mercato si arrabbia di perché parli sempre in mercato ragazzi la stagione di ventus è finita prendiamoci in giro sono 90 minuti con la fiorentina 90 minuti con la lazio invertite basta la stagione di ventus è finita la ventus oggi deve programmare pensare a quella che sarà la stagione successiva e per fare questo bisogna passare dal mercato e quindi i nomi che sono stati fatti ma non solo proprio perché questo discorso di questa lite va a infilarsi esattamente all'interno del discorso perché la domanda è scontata allegri sarà ancora allenatore della juventus l'anno prossimo io vi ho già raccontato quello che secondo me sarà il destino di allegri faremo un altro passettino sull'argomento in questo stesso video ma partiamo prima dai nomi di mercato e sì perché Angel Di Maria dopo il like alla foto della nuova maglia della juventus sembra essere uno dei primi colpi prescelti per la juventus romeo agresti ha confermato l'indiscrezione ce l'ha raccontato ci ha detto la juventus è attratta da De Maria sotto il punto di vista tecnico lo considera un elemento che è giusto giungere alla rosa sta soltanto ragionando sul punto di vista economico perché perché Di Maria vorrebbe il contratto di un anno solo ma con un solo anno di contratto la juventus non potrebbe fare entrare in discussione il discorso legato al decreto crescita e quindi andrebbe a pagare di più di stipendio per l'argentino e quindi la juve sta cercando di convincere di Maria a fare almeno un biennale per far scattare appunto le agevolazioni fiscali che andrebbero ad aiutare la juve a garantire uno stipendio più alto di Maria e quindi il giocatore sarebbe ripagato anche con meno soldi un parametro zero un giocatore comunque con la sua età comunque integro dal punto di vista fisico ma è ovvio che la juventus prima di dare così tanti soldi a un profilo con un'età media così alta deve fare le sue valutazioni e se c'è la possibilità di risparmiare qualcosa sulla tassazione non vedo perché no quindi la juventus e di Maria potrebbero incontrarsi e in tempi brevi perché comunque anche la stagione del psg è ormai giunta alla conclusione di Maria può firmare da mesi ormai con qualsiasi squadra la juve sembra essere la squadra giusta stanno ragionando su questo incastro quindi di Maria teniamolo da parte monitoriamolo è un nome caldo è un nome che potrebbe fare al caso della juve lo lasciamo lì un secondo dall'altra parte nella giornata nella serata di risera in tarda serata è circolata con insistenza ancora una volta la chiacchia relativa a Pogba io per l'ennesima volta ve lo ripeto non sarei sorpreso di vedere Pogba tornare alla juventus perché parliamo di un giocatore sulla trentina parliamo di un giocatore a parametro zero parliamo di un giocatore su cui potremmo fare il discorso del decreto crista che abbiamo fatto per il maria tra poco tempo fa potremmo ragionare anche sull'affetto di Pogba perché se oggi penso dove può andare Pogba Bayern Monaco no Bayern Monaco quegli acquisti lì quei colpi lì quegli ingaggi lì a quei giocatori non glieli dà Real Madrid probabilmente oggi Real Madrid ha già abbastanza profili di esperienza rinnoverà Modric un altro anno poi a Camavinga a Valverde che sono la linea verde scusate il gioco di parole quindi no Barcellona non sembra essere quella l'idea di calcio di Xavi con un giocatore come Pogba vediamo tra l'altro è molto vicino all'accessione anche di Frankie de Jong a parte del Barca quindi anche loro non è che se la passino proprio alla grandissima chi altri non lo so Manchester City penso che non farebbe mai uno sgarbo del genere United e oltre al fatto che mi sembra poco inserito nel calcio di Guardiola ma probabilmente nemmeno in Inghilterra andrebbe a giocare un'altra squadra quindi secondo me bene o male rimangono fuori Juventus e PSG sono queste due le squadre che potrebbero assicurarsi Pogba e nelle quali anche lui potrebbe essere attratto perché nella sua Francia quindi a Parigi oppure nel suo cuore la Juventus quella che è stata la squadra che l'ha lanciato nel calcio mondiale la Juventus avrebbe un bisogno assurdo di uno come Pogba a centrocampo e ovviamente dovrebbe abbassare le pretese economiche ma con anche il decreto crescita secondo me alla fine si riuscirebbe a fare anche questa cosa qui e riusciresti ad assicurarti un centrocampista con un investimento di zero sul cartellino e con uno sgarabo fiscale con ingaggio a ribasso quindi secondo me Pogba è un nome possibile possibilissimo tra l'altro aggiungo ultimo ma non ultimo con Massimiliano Allegri in panchina che già conosce bene una squadra che conosce bene un ambiente che conosce bene un lettore che conosce bene io non sarei sorpreso del ritorno di Pogba sarei invece molto più sorpreso dall'acquisto di Milinkovic Savic o di Young perché ovviamente oltre all'ingaggio ci sarebbe anche una parte fissa molto alta da pagare quindi mi sembra molto più plausibile Pogba come nome e attenzione che c'è un terzo nome un terzo parametro zero che la Juventus a quanto pare starebbe visionando anche qua ci sono dei chiacchiericci niente confermi ufficiali quello più vicino è di Maria Pogba rimane sullo sfondo è un'ipotesi che secondo me può essere presa in considerazione attenzione pure a Ivan Perisic che so che sembra folle dirlo in questo momento dopo che ci ha appena distrutto in Coppa Italia con quella doppietta ma Perisic è un altro dei nomi che sta circolando in questo momento questo è il nome più lontano di tutti ok quindi se devo fare una scala delle probabilità metto di Maria Pogba è Perisic però sarebbe un altro colpo intelligente da Juve perché è sicuramente un giocatore eccellente un top player lo sappiamo perché nelle ultime stagioni ha vinto in Italia ha vinto in Europa col Bayern Monaco certo all'interno di un Bayern quasi perfetto però è tornato un giocatore di grande impatto un'altra sera abbiamo ammirato veramente una prestazione superba e stiamo vedendo mai come in questo finale di stagione un Perisic davvero inserito all'interno dell'Inter forse il migliore giocatore dell'Inter da un paio di mesi a questa parte che sta trascinando l'Inter la sta prendendo per mano per non fare in modo che che non si vinca lo scudetto ecco ci sta provando forse anche un po più degli altri quindi Perisic è un nome importante per l'Inter e sembrerebbe anche un nome che la Juventus potrebbe prendere in considerazione io però vi faccio un collegamento tra questi tre nomi no perché c'è una sola cosa che ha comune a questi giocatori l'esperienza sono tre profili di giocatori fatti e finiti Pogba farà 30 anni Perisic dovrebbe averne non mi ricordo comunque qualcosa di più di 30 di Maria quasi 34 quindi stiamo parlando di giocatori esperti profili di giocatori che sono sempre stati la richiesta di Massimiliano Allegri quello che serve a Massimiliano Allegri è sempre stato un giocatore in grado di pensare in grado di prendersi in mano la responsabilità di squadra anche entrando in uno spogliatoio magari diverso da quello a cui ero abituato e magari dove ci sono anche delle presenze importanti poi non dimentichiamoci mai che che linee di bala usciranno quest'estate e quindi sono due giocatori capitano e vice capitano ufficialmente della Juve quindi serve anche ripristinare queste gerarchie però sempre i giocatori esperti e allora mi viene da dire se si sta ragionando in questa direzione di esperienza di giocatori che hanno anche una certa età io sono fan di fare un mix tra le due cose quindi non sarei contento di un solo mercato con questi tre comi e basta servirebbe anche un po' di freschezza di gioventù magari in qualche reparto come la difesa dove da tempo che non si vede un ingresso se non il solo De Litt o De Mirale e Romero che poi non sono stati confermati come il terzino sinistro come un giocatore anche sulla tre quarti mi verrebbe da dire quindi qualcosina va fatto pure lì a livello proprio di freschezza proprio di gioventù qualche ragazzo quindi degli acquisti giovani in questi reparti qua perché se non andiamo avanti più un paio siccome questi tre tre profili di esperienza che possono aiutare anche la Juventus nei momenti in cui non si sa che cosa fare e sono tanti l'altra sera si vedeva proprio cioè ci sono dei momenti in cui nessun giocatore si propone va a prendere la palla dice provo io mi faccio vedere la vengo a prendere provo un dribbling provo a tirare da fuori sono cose che ci mancano ci manca un po' di personalità e sicuramente Pogba di Maria Perisic sono tre giocatori eccelsi tre giocatori che hanno veramente sempre fatto bene quando hanno giocato e quindi tre profili ok sotto questo punto di vista però l'altra sera appunto c'è stata questa discussione tra Allegri, Nedved e chi più ne ha più ne metta allora io ve la riassumo ancora una volta l'allenatore della Juventus l'anno prossimo sarà Massimiliano Allegri al 90% 90 lascio un 10% fuori e non è una notizia è la mia percezione al 90% sarà Allegri perché la Juventus quest'estate ha deciso di fare un progetto quadriennale con Allegri per non pensarci più alla questione allenatore ha individuato in Allegri l'allenatore giusto per quello che è il processo di ricostruzione della Juve ma 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 il processo della Juventus il progetto della Juventus era quello di abbassare età media di abbassare il monte in gaggi di essere una squadra sostenibile una squadra giovane una squadra molto più simile a quelli che sono i top club a livello europeo piuttosto che quelli che sono i top club a livello italiano per intenderci l'Inter sta facendo questa filosofia da qualche anno prende i giocatori fatti finiti gli do lo stipendio che si meritano e poi domino perché in questo momento magari sono i più forti la Juve dà un paio d'anni a questa parte invece sta facendo il procedimento inverso sia con Pirlo che con Allegri nei mercati che sono stati fatti per Pirlo e per Allegri in questa direzione ora magicamente invece i tre nomi stanno circolando il nome più vicino è di Maria che va esattamente nella direzione opposta rispetto a questa cosa e allora mi viene da dire qual è la direzione che vuol prendere la Juve perché bisogna parlarsi chiari qua bisogna parlarsi chiari mettersi a sedere, mettersi a tavolino e parlarsi chiari dove vogliamo andare, che cosa vogliamo fare qual è il progetto, qual è l'obiettivo tornare a vincere, ok come andiamo a vincere abbiamo scelto questo allenatore quali sono le caratteristiche di questo allenatore questa, questa, questa ok, quali giocatori servono questo, questo, questo loro si prendono perché se non si è convinti di questa cosa non vale assolutamente la pena andare avanti con Allegri non vale assolutamente la pena andare avanti con Allegri se la richiesta della Juventus è una squadra giovane a cui attingi dalla cantera in cui vai a formare dei giocatori in cui li prendi giovani per formarteli te allora Allegri tutte le volte che lo senti parlare ti dice esattamente la cosa opposta e allora dove stiamo andando perché mi sembra invece che due linee parallele in cui tutti si andano d'accordo col pensiero no, sono due linee che si incrociano si scontrano, si intersecano andare avanti dritti ancora se arriva una lite nello spogliatoio tra Nedved e Allegri perché Nedved non sarebbe soddisfatto di quello che è Allegri la figura di Allegri del modo di lavorare di Allegri dell'approccio Allegri ma io mi chiedo Dio santo Dio ma quando l'anno scorso hanno scelto Allegri per quattro anni perché non si è alzata la manina e si è detto no, non sono d'accordo oppure se si è fatto perché si è andato avanti insieme a me basta che prendano una decisione una scegliete voi quale non voglio metterci becco ci sono delle dinamiche interne che io non conosco ci sono delle dinamiche finanziarie che io non conosco non voglio fare il tuttologo non voglio essere quello che ha la risposta la soluzione non ne so niente mi metto al livello più basso della catena ma chi c'è dentro non può fare queste cose se la Juve da quattro anni a questa parte mi cambia l'allenatore e quest'anno mi prende l'allenatore che aveva esonerato me lo riprende gli dà lo stesso ingaggio gli dà quattro anni di contratto a cifre astronomiche e poi salta fuori che la dirigenza stessa che ha scelto questo allenatore non è soddisfatta di questo metodo allenamento dell'allenatore ma stiamo scherzando siamo su scherzi a parte cos'è il circo? chi è che decide? chi è che prende le decisioni? chi è che partecipa alle riunioni? chi è che dice dobbiamo far così dobbiamo far colà? se due anni fa iniziamo un progetto sui giovani quest'anno prendiamo Di Maria Pogba e Perisic due anni fa tre anni fa non va più bene Allegri poi lo riprendiamo e prendiamo Sarri ma non va bene prendiamo Pirlo ma non va bene prendiamo Allegri ma alla fine non va bene neanche Allegri ma stiamo scherzando o stiamo dicendo sul serio? stiamo scherzando o stiamo dicendo sul serio? mandatevi Allegri tenete Allegri ribadisco non me ne frega niente io voglio pretendo davvero questo lo pretendo lo pretendo so che è una parola brutta pretendo ma lo pretendo che chi decide alla Juventus chi ha potere decisionare la Juventus chi va a ragionare su quello che è il futuro della Juve batta dritto batta pari e secondo me è anche logico avere delle visioni differenti all'interno dello stesso organigramma societario perché se no il mondo è tutto bello è tutto perfetto quello che pensiamo tutti va bene no è logico confrontarsi con chi ha una visione diversa dalla tua ma questa visione non può saltare fuori dopo che si è iniziato un progetto quadriennale volete cannare Allegri volete cacciare Allegri volete tagliare Allegri cacciatelo tagliatelo fatelo però poi abbiate la decenza di chi ha voluto ricominciare con un altro progetto lungo 4 anni che ci costerà una cinquantina di milioni di euro di allenatore a libro paga che non allenerà più un altro da prendere ricominciare un progetto rifare un mercato magari questi nomi che siamo andati a sondare non vanno più bene chi ha deciso chi ha deciso prima e poi ha deciso poi diverso e non in un anno per 4 anni di fila Levi le tende io non so chi è non voglio punterlito è Agnelli è Nedved è Chirubini è Arriva Bene è Rapparatici è stato Marotta è colpa mia non lo so però non si sta capendo più niente dentro la Juventus c'è un caos infernale è una polveriera e non venitemi a dire per cortesia che il dubbio su Allegri nasce dalla finale Coppa Italia persa perché se la dirigenza della Juventus mi viene a dire che ragiona che ragiona sulla base di una Coppa Italia per valutare una stagione dopo una seconda stagione in cui arriviamo quarti tutte e due le volte perdo la pazienza perdo la pazienza perché questi sono livelli da discorso bar bar con la birra in mano e la dirigenza della Juventus non può ragionare ai livelli di bar con la birra in mano e non può per 4 anni ripartire da capo e riconfermare la stessa classe dirigenziale che ha preso le stesse decisioni diverse opposte negli ultimi 4 anni e allora scegliete che cosa volete fare sceglietelo assolutamente non me ne frega niente ti farò Juventus con Allegri senza Allegri con ancora Pirlo rimetteteci chi volete ma nel momento in cui scegliete chi metterci siate convinti della scelta andate avanti almeno due anni con quella persona ragionate con quella persona intendetevi con quella persona capite chi serve a quella persona per fare il tipo di gioco che verrà scelto perché intanto non rinnoviamo Di Bala ma magari rinnoviamo De Sciglio e Bernardeschi e se cambiamo allenatore ti dice guarda che io De Sciglio e Bernardeschi non li voglio ma volevo Di Bala che cosa facciamo? chiamiamo Paolo diciamo scuso ho cambiato idea e se magari facciamo firmare Di Maria e cambiamo Allegri ne arriva uno e ti dice no a me Di Maria non serve cosa fai? Di Maria in panchina se sei avanti con Pogba ti dice no Pogba è vecchio cosa facciamo? ritorniamo ancora una volta al discorso che gli allenatori si adeguono a quello che è l'occasione di mercato torniamo ancora su questa cosa prendete una decisione fate quello che volete ma prima di iniziare dei contratti di firmare dei contratti di rinnovo prima di firmare dei contratti a parametro zero prima di decidere chi se ne va e chi no decidete a patto che non l'abbiate già fatto perché a me sembra anche sinceramente assurdo che al 13 di maggio Eventus possa avere dei dubbi sul futuro dopo aver iniziato un progetto di 4 anni con una persona che guadagna 7, 8, 9 quelli che sono milioni di euro all'anno possa avere dei dubbi mi sembra assurdo mi basta sapere che ci sono le idee chiare e che si è disposti a rischiare a prendersi delle responsabilità anche andando contro quello che è il parere del tifo perché il tifo avrà sempre una posizione magari anche scomoda per chi comanda ma chi comanda non si deve fare influenzare chi comanda deve ragionare con la sua testa perché se è lì invece che in curva o in tribuna a sostenere la squadra deve esserci un motivo perché sono più bravi dei tifosi se no potremmo fare tutti i dirigenti quindi andare avanti con un'idea che sia quella esonerate allegri confermate allegri non me ne frega niente ma raccogliere i frutti di una decisione popolare impopolare che sia andate avanti con chiarezza e se ci sono proprio delle incongruenze a livello fisico personale perché si parla di persone che componga la Juventus tagli anche drastici che sia Nedved che sia Agnelli non mi interessa andare avanti con l'unità di intenti perché se andiamo avanti ancora ognuno che tira da una parte dall'altra il mercato che si fa un po' a caso a seconda delle allenatori che poi decidiamo in volo avete visto cosa abbiamo fatto negli ultimi 4 anni ci hanno superato nell'ordine l'anno scorso prima di noi sono arrivate Inter Milan e Atalanta con Napoli che si va a uccidere l'ultima giornata contro il Verona quest'anno ci hanno superato Milan Inter e Napoli e meno male che l'Atalanta è crollata avevamo la Fiorentina vicino Roma vicino siamo sempre arrivati 10 punti davanti a quegli altri in Europa andavamo a giocarci le finali di Champions o se non andavamo avanti era per episodi agli ultimi secondi quello che accadeva abbiamo sempre overperformato rispetto a quello che eravamo e adesso cosa siamo una squadra normalissima in cui la finale di Coppa Italia ci si picchia si litiga perché non siamo convinti di un progetto che abbiamo iniziato bene allora riavviamolo riavviamolo ancora una volta ma che sia l'ultima perché non possiamo continuare così no